carissimi fratelli e sorelle pace buona giornata dio benedica la vita di tutti quanti noi oggi è 26 novembre continuiamo a leggere nel libro di reggi wims sulle ali della preghiera stiamo parlando del ringraziamento e c'è un paragrafo in questo capitolo dedicato a questa attitudine che ogni vero credente deve avere nell'accostarsi a dio intitolato ringraziamento e adorazione l'autore afferma che negli stati uniti si diffonde sempre più l'usanza di trasformare i culti in riunioni con un'atmosfera mondana l'idea è di avvicinarsi alla sensibilità dei non credenti più che rispettare la sensibilità di dio anche se la scrittura dichiara che l'incredulo insensibile alle realtà spirituali in tal modo in molte chiese americane l'essere umano è diventato una sorta di idolo la bibbia insegna che l'obiettivo della nostra adorazione deve essere dio non gli increduli e neanche i fedeli sia chiaro l'adorazione comunitaria si deve svolgere secondo la volontà del signore veri ciò che dice il salmista nel salmo 34 al verso 3 e non seguendo le preferenze di persone innamorate di sé o sedotte dalla cultura prevalente ogni volta che perdiamo di vista chi è dio smariamo anche il concetto di chi siamo noi in tale situazione è facile scambiare la verità di dio in menzogna e adorare e servire la creatura invece del creatore nel salmo 126 nei primi tre versi l'autore dichiara invece che proprio l'adorazione appassionata rivolta al signore è un efficace strumento evangelistico secondo l'apostolo paolo quando i credenti mettono da parte le aspettative umane e si radunano per rivolgere la mente il cuore a dio lo spirito santo si manifesta e allora chi è presente viene convinto di peccato così come leggiamo nel capitolo 14 della prima corinzi questo tentativo di attrarre la gente del mondo non funziona la distanza tra i fedeli gli increduli negli stati uniti continuano ad aumentare nonostante l'apertura alla mondanità le chiese riflettono sempre più la cultura prevalente e crescono perché le pecore si spostano da un ovile all'altro nella ricerca frenetica di riempire un vuoto che soltanto dio può colmare la nostra generazione ha fatto ruotare l'evangelo intorno a se stessa e non se ne rende conto anzi pensa che vada bene così l'animo umano però non riesce a trovare soddisfazioni in questo mondo più la chiesa si concentra su di sé o sugli increduli maggiori sono i problemi che affliggono soltanto la gloria di dio può spegnere la sete dei cuori l'interpretazione comune di proverbi 29 18 se il popolo non ha rivelazione senza freno ma beato colui che osserva la legge illustra quanto sia diffusa questa diagnosi errata sulla condizione umana e mostra qual è l'unica cura possibile miriadi di chiese hanno letto questo versetto per poi crearsi idee umane su come dovrebbe essere la chiesa e cosa bisogna fare la visione di cui parla il profeta però è la parola di dio stessa per impedire che il popolo perisca bisogna osservare ciò che è scritto beato chi guarda la legge la cura per la malattia del peccato perciò è soltanto la parola del signore la chiesa e il mondo hanno disperatamente bisogno di una visione che viene da dio e non dall'uomo purtroppo la chiesa non mostra i segni di un ritorno al signore ma continua a proporre esperienze piacevoli per la carne e una mentalità consumistica che idolatra l'uomo abbiamo disperatamente bisogno di una nuova visione di dio dobbiamo tornare ad essere un popolo diverso dagli incredoli per provocarli a gelosia non attraverso somiglianze culturali ma diffondendo il messaggio della salvezza in cristo unica e vera alternativa il piano di dio non è quello di una chiesa che rifletta come uno specchio la cultura dominante ma che sia una finestra da cui si possa vedere gesù invece di offrire al mondo altro mondo la chiesa deve mostrare agli increduli la gloria di dio attraverso un'adorazione vera in spirito e verità sentita e incentrata su di lui sull'idio eterno senza l'adorazione pubblica in cui i credenti testimoniano dell'opera che il signore compie in loro si perderà la visione del grande dio della bibbia la mancata esposizione della scrittura impoverirà i cuori e li priverà di tanti motivi per essere grati al signore un simile oblio indebolirà la vita di preghiera per questo il ringraziamento un aspetto fondamentale della devozione spirituale la gratitudine e la memoria del cuore il coraggio di chiedere cose grandi a dio in preghiera viene dai prodigi che ha già compiuto nel passato i credenti abbiamo bisogno di offrire insieme il culto a dio per incentrare di nuovo la nostra vita in lui per magnificarlo come signore e celebrarlo per le sue grandi opere un culto così imperniato su dio che include adorazione confessione ringraziamento porta naturalmente all'intercessione che contribuisce a sua volta al progresso del regno di dio nel mondo la storia del cristianesimo mostra che i maggiori sforzi evangelistici e missionari sono stati mossi da una profonda passione per il signore e la sua gloria il cui nome merita di essere proclamato ovunque e la cui persona è degna di essere adorata da ogni creatura la vera gratitudine si trasforma sempre in fervore evangelistico in un desiderio ardente che altri conoscono lì dio di ogni grazia non c'è da merivigliarsi che l'appello accorato di mosea israele in deuteronomio sia di ricordare il signore il tema di questo libro è proprio la memoria mosea annuncia ad israele le benedizioni che scaturiscono dal ricordare e la maledizione che viene dal dimenticare deuteronomio capitolo 8 la testimonianza pubblica dell'opera di dio in mezzo al suo popolo durante il culto comunitario mostra il signore a chi ancora non lo conosce e incoraggia i credenti alla perseveranza la conoscenza di un dio tanto grande avrà sui nostri figli lo stesso effetto che ebbe sui giovani di israele al monte sinei quando tutta la generazione di adulti morì perché aveva dimenticato le opere compiute da dio nel passato continueremo dopo domani a leggere da questo paragrafo ma dio ci dia veramente un cuore riconoscente che ricorda i prodigi del signore e che ricerca in lui e nella sua parola il proprio fondamento per poter proseguire il cammino verso il cielo la grazia e la pace e l'amore e la presenza di dio sia con noi ancora oggi dio ci benedica insieme